Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus Oggi ritorniamo con un nuovo video, sempre con LEGO Star Wars Il risveglio della forza, perché in pratica sono usciti due DLC nuovi Riguardanti due pacchetti nuovi di personaggi Poiché mi chiedete in tantissimi, Magnus, come fai a scaricare i pacchetti? Come fai? Allora, vi mostro in pratica come si fa E poi, normalmente, ci andiamo a guardare tutti i vari pacchetti e tutti i vari personaggi Allora, naturalmente, mi rendo conto che non tutti avranno la PS4 Chi avrà la PS3, chi avrà la Xbox Comunque, nel gioco, sicuramente, questo dovrebbe essere assolutamente uguale per tutti E quindi, se noi andiamo in contenuti addizionale E successivamente in contenuto a questo punto Qui avremo, praticamente, tutti i vari pacchetti che possiamo scaricare Naturalmente, io li ho già scaricati, sia il pacchetto personaggi di Clone Wars La guerra dei cloni e poi abbiamo anche il pacchetto personaggi Star Wars ribelli Quindi, andiamocene a vedere, dai! Ok, ci siamo e iniziamo subito a mostrare il pacchetto personaggi La guerra dei cloni E allora, dovrebbero essere... Iniziamo con questo, l'abbiamo già visto Ok, iniziamo con Asajj Ventress Uh, questo è veramente molto, molto... Uh, c'ha anche lui le spade laser Penso che sia una lei Ok, colpisce, penso, anche da lontano lanciando le spade Atterraggio galattico Ve lo faccio vedere... Scusami, Giubecca, non mi stare però così attaccato al culo, eh Ok, ve lo faccio vedere per bene Allora, ha un'espressione molto cattiva Però, non è niente male, secondo me, eh Vediamo se possiamo fare qualche altra cosa No, niente da fare Quindi, andiamo avanti e ci vediamo anche il prossimo personaggio Aura Sing Non vorrei che... Uh, questa mi piace C'ha un pelo bellissimo però, eh Guardate qua Che bella capigliatura che c'è, raghezza Uh, speriamo che questi poi ci permetteranno di realizzare altri personaggi Vediamo un po' come colpisce Non c'ha soltanto il fucile Vabbè, dai Ci accontentiamo anche di questo, eh Credo che sia abbastanza... Anche da lontano, penso Ok, spari da lontano Non lancia bombe, non fa un tubo Quindi ci possiamo anche divertire in questo senso E passiamo con... Uh, Berris Offini Questo è un Jedi, eh, secondo me Sì, sì, sì Uh, è veramente super Non credo che faccia niente di particolare Colpisce anche da lontano con la sua spada laser Giubecca, perché ci stai così da vicino? Sono tutte donne, ragazzi Non so se si sono concentrati, soprattutto, sulle donne Vabbè, questo pure mi piace Ok, agile anche lei come al solito E poi chi cambiamo? Uh, Kat Bane Questo è bello, eh Questo l'abbiamo visto anche nel Disney Infinity C'è un'armetta niente male Disney Infinity Cos'è il Disney Infinity? Ah, già, l'abbiamo dimenticato Ormai l'hanno cancellato e buggerato Dalla nazione Ma Ok Ah, lancia anche le bombe Come Giubecca Tieni Giube Tieni Giube Sono sempre per te Ci abbiamo il sole in faccia E non vediamo un tubo, eh Giubecca ci sta sempre attaccata al culo Questa cosa poi non l'ho capita Lasciamo stare Ok Ci piace, ci piace Comunque Passiamo a presso E ci becchiamo Capitano Rex Allora, questi qua Vi dico la verità Vabbè, questo almeno lancia le bombe Di solito però non mi fanno Proprio impazzire Perché Non fanno veramente Pochissimo e niente, eh Non è che sono chissà Che cosa Però hanno un buon atterraggio Credo che Uh Però spara molto da lontano Che cavolo Questo spara Allora, mi dico la vita Pensavo che avesse Una Una pistoletta di merda E invece niente È abbastanza bravo Comunque Ci becchiamo a questo punto Anche il prossimo Comandante Cody In pratica è abbastanza simile All'altro Diciamo che sono Due pacchetti Che ci sono usciti Con otto personaggi Non si sono applicati Poi tanto E Io l'avevo detto Che con Star Wars La Risveglia della forza La rego Non lo so È andato un pochettino Un po' più scherzino Comunque Ci becchiamo A questo punto Non so se sono terminati No Abbiamo anche Hondo Honaka Allora Questo già mi piace Un pochettino di più C'è la stessa spada Questa è quella letter Che è quella che abbiamo Realizzato noi Ok Lancia anche da quest'altra parte Penso che tu potrai Virare No qui No ok Voglio vedere se riesci A colpire con qualcosa No Soltanto Ma la cosa La usi C'è la Come c'è sta Allora Fammi capire una cosa C'è sta mazzetta dietro Ma non la usi Ma non ho capito Aspetta C'è la usi soltanto Per fare questa Ah ok In fase di combattimento Però la usi Vabbè Vabbè Me lo faccio vedere da vicino Secondo me Il più bello È questo Savage Hopress Questo secondo me È molto bello Ne vado anche abbastanza fiero Guardate qua Guardate quanto è fiero Secondo me questo è bello Ok Infatti Vi dico la verità Prima che iniziassi a cacciare La spada laser Questa non è una spada laser Avevo l'impressione che Somigliasse un pochettino A Darth Maul Vabbè Dopo aver visto questo Ne ho avuto la conferma Ve lo faccio vedere Come avanza In fase di combattimento Oh mi scusi signora L'ho colpita in pieno Vediamo se riusciamo a fargli Lanciare qualcosa Se riusciamo a mirare qualcosa Qua non c'è niente Abbiamo praticamente Già distrutto tutto Vediamo se qua invece Riusciamo a fargli mirare qualcosa Ok E la lancia Ok ragazzi Quindi anche questo bacchetto L'abbiamo terminato Naturalmente vi farò vedere Anche l'altro bacchetto Spero di essere il salito D'aiuto soprattutto Per riuscire a capire Come si scaricano Questi bacchetti Comunque spero come sapete Questo video vi sia giusto Vi vedete sempre di commentare Se mi mette un piaccio Ci vediamo Nel prossimo video E bye bye